Ma, la prima parola di un bambino per identificare la propria mamma. E questo è il titolo della rappresentazione teadrale che andrà in scena al Teatro Vittorio Emanuele della Nostra Città Domani e Dopodomani. Un lavoro questo di Antonio Latella, ispirato alla figura della madre dell'opera di Pierpaolo Pasolini, che partendo dalla prima sillaba della parola mamma, ci guiderà in un percorso dell'opera di uno dei massimi poeti del Novecento. La madre, interpretata da Candi Danieri, va a disegnare l'amore disperato per il proprio figlio, una figura che si trasforma durante tutta l'opera, si lamenta, soffre, si ribella e si domanda perché proprio lei debba essere madre di un Cristo comunista, così lo definisce. Curioso soprattutto anche il modo in cui la protagonista si trova in scena, sempre seduto in piedi, che dall'inizio alla fine dello spettacolo sta con i piedi dentro due scarpe enormi. Causa civile! La ricotta! Processato! Durante lo spettacolo il testo suggerisce a tratti un ideale dialogo tra madre e figlio morto, una costruzione verbale che assume la forma di un lamento con l'esplicito richiamo per il figlio Jacopone. Una sofferenza che però non si limita al pianto, ma anche a un certo punto a sottolineare una protesta. Uno spettacolo questo che il regista Latella ha composto con un intrinseco motivo emozionale e sentimentale che dà vita a tutta l'opera e che ha registrato un grande successo in tutta l'Italia.